Tutto pronto per il Galà del Cinema e della Fiction in Campania, giunto quest'anno alla sesta edizione. L'evento si svolgerà domani, sabato 12 ottobre, nel Castello Medioevale di Castellammare di Stabbia. La manifestazione ideata è prodotta da Valeria Della Rocca, amministratore di Solaria Service, di concerto con Film Commission Regione Campania. Ai nostri microfoni Valeria Della Rocca e Marco Spagnoli, direttore artistico. Abbiamo voluto parlare di cinema e wedding, ovvero tutte le coppie straniere che si sono sposate in Campania, Positano, Capria, Marfi, Sorrento, perché hanno visto un film girato sul territorio, potranno inviarcelo in redazione, sarà analizzato e il più bel film vincerà un premio di una settimana in una delle località più belle della regione. Quindi questo perché è nato? È nato perché è stato girato a Sorrento il film della regista danese Susan Beer, All You Need Is Love, con Pierce Brosnam. Ebbene, il comune di Sorrento ha avuto un incremento di matrimoni dai paesi scandinavi del 20%, perché avevano visto questo film? La vetrina piace, piace moltissimo Castellammare, piace moltissimo il setting, piace moltissimo la serata, e piace anche il fatto che c'è un concorso dove vince chi ha più voti, dove il primo ha più voti del secondo, c'è una giuria che ha dei nomi e cognomi, che sono critici, giornalisti, registi, attori, e piace anche il fatto di trovarsi in un momento di incontro, perché i grandi festival tipo Venezia e Roma sono momenti importantissimi, però non ci si incontra. Alla conferenza di presentazione dell'iniziativa che si è svolta nella sede dell'Unione Industriale di Napoli erano presenti anche l'assessore al turismo della regione Campania Pasquale Sommese e Maurizio Gemma, direttore generale della Film Commission Regione Campania. Noi investiamo con Film Commission ben 6 milioni per un bando che in queste ore è stato pubblicato, proprio per andare nella direzione di promuovere le nostre bellezze mediante il Grand Tour Ghetti del Settecento, che ha prodotto risultati, ma soprattutto le stelle del firmamento cinematografico olidiano e i grandissimi artisti e registi che vivono e hanno sempre una grande dimora di creatività quando vivono le loro esperienze nella nostra regione Campania. La collaborazione della Film Commission all'iniziativa della Film Commission Regione Campania quest'anno è stata veramente un po' scarsa, nel senso che purtroppo abbiamo anche noi, come tutti, in questo momento di crisi, problemi di budget e anche problemi proprio, come dire, di operatività, per cui abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Diciamo che il nostro rapporto con questo evento è un rapporto importante poiché noi rendiamo possibili le cose che in questo evento, diciamo, poi vengono selezionate, valutate. Mi spiego meglio. Il nostro compito consiste nell'agevolare, nell'attrarre e agevolare la produzione sul nostro territorio, facendo anche in modo di aggiungere ai progetti, pensiamo a Benvenuti al Sud, per esempio, dei contenuti, ecco, in modo che possano poi, diciamo, far ricadere un'azione promozionale o un'azione, diciamo, economica sul territorio.